Grazie a tutti Grazie e auguri anche da parte mia a tutte le donne Bene, allora partiamo subito Che significato può avere la festa della donna oggi? Ma guardi, io provengo da una città dove bisognerebbe veramente riflettere su questo La percentuale di immigrazione nella mia città è altissima Parliamo di un 23% Ma se lei considera che la percentuale del 23% sta in una fascia di età Che è compresa tra i 20, i 25, i 45 anni è proprio nella fascia attiva Perché glielo dico? Perché in questa fascia attiva le famiglie, gli uomini residenti per lo più bengalesi Sono con i ricongiungimenti accompagnati dalle mogli, spesso giovani E proprio in questa giornata sottolineo come il problema della sottovalutazione della donna Nella mia città sia così tanto evidente Donna che spesso è relegata in casa Bambine che quando vanno a scuola possono farlo fino a una brevissima età Quindi io ritengo che perché non ci siano infingimenti Che io allontano sempre La festa della donna oggi ci dà l'occasione per dire Guardate che abbiamo il vicino di casa E accettiamo che ci siano condizioni di questo tipo Raramente sento anche tutti quelli che fanno i paladini della situazione Ragionare su questo che invece nella nostra esperienza è molto importante Ecco alcune tematiche dovrebbero essere presenti nella società oggi Si parla tanto di violenza sulle donne E questo è veramente una cosa incredibile che può succedere negli anni nostri Ma oltre a questo che va bandito nel modo più assoluto Ci dovrebbe essere una politica molto drastica contro queste pratiche Ma le tematiche vere perché una donna oggi in politica per esempio Lei che è proprio protagonista in questi anni Posso dire che la mia esperienza è nata tardi perché io ho voluto fortemente Dedicarmi alla mia professione Nasco, ho lavorato molti anni, 30 direi all'interno degli enti locali E mi sono molto impegnata per crescere all'interno della professione E poi ho voluto fare la mamma E le due cose assieme mi assorbivano completamente Quindi io ritengo che oggi sia molto importante per dare un supporto alla donna Riuscire a creare le condizioni familiari Affinché si possano poi realizzare anche le donne al di fuori dell'ambito familiare Perché altrimenti la prima che sempre comunque sta all'interno delle esigenze familiari Che sia diretta alla gestione della famiglia Oppure anche degli anziani e la donna In questa società purtroppo ci sono delle difficoltà, delle carenze anche di servizi Che rendono impossibile talvolta poter realizzare al di fuori di questi ambiti La nostra capacità Io ritengo, ho lavorato con tante donne Ci sono delle capacità e delle eccellenze molto importanti E' per questo che io non sono molto favorevole alle quote rosa Perché le ritengo talvolta anche un'umiliazione Sono aggettizzazione, no? Sì, io ritengo che noi ormai ragioniamo su una parità reale E di conseguenza sono ben altri supporti di cui una donna ha bisogno per poter emergere Non sicuramente degli accantonamenti di legge che forse umiliano un po' Ecco, senta, parliamo un po' di Mo Falcone Lei praticamente ha dato il via a questo domino elettorale della Lega Del centro-destra in particolare A Mo Falcone è caduta sotto Cioè, questo baluardo rosso, chiamiamolo così È caduto sotto la vostra politica molto incisiva Molto sferzante e anche molto incalzante E quindi ha dato il via a questo domino Che dopo in tutta la regione abbiamo visto l'elezione di Federica Ecco, volevo chiedere, l'impegno che state mettendo a Mo Falcone adesso Perché l'opposizione ci sarà Però c'è stato un travasi di voti importante che in tutta Italia ne ha parlato Ecco, l'impegno che state mettendo adesso Perché è un conto alla campagna elettorale Poi lei ha cominciato a lavorare sulla scuola, sul lavoro Sì, io direi che ci caratterizza e caratterizza la Lega questo tipo di approccio Quello che prometti poi cerchi di fare e di realizzare In due anni di mandato a Mo Falcone Noi abbiamo veramente, ce lo riconoscono i cittadini Ce lo riconoscono le imprese Non più tardi anche del giorno di carnevale Guardi, io sono stata veramente fermata da tantissimi concittadini Che ci invitano a non mollare, che ci invitano a fare Che ci invitano ad andare avanti così Ecco, in questi due anni abbiamo, credo, riportato alla ribalta Una città che in molti non si aspettavano che potesse così riemergere Una città viva, vivace, dinamica, che ha voglia di esserci Una città che posso, secondo me, non credo di poter essere smentita Nel dire che è la quarta città di questa regione Una città che fa parte di un contesto in cui lo sviluppo economico È assolutamente presente per un rilancio anche del mondo del lavoro Siamo partiti immediatamente a dirle la verità Con una politica di valorizzazione della pulizia Antidegrado, della sicurezza E su questo abbiamo lavorato moltissimo Grazie a una serie di iniziative che abbiamo messo in campo E che stanno premiando in maniera assoluta Tant'è vero che anche chi ci viene rimane veramente sbalordito del cambio di rotta Che siamo riusciti a imprimere E con questo tipo di cipiglio, lavorando molto, anche sbagliando Perché chi lavora sbaglia Però con questo tipo di cipiglio, con questo tipo di determinazione Con questo tipo anche di competenza Perché oggi bisogna fare le cose che sai Altrimenti è difficile riuscire a ottenere risultati Ecco, con questa modalità di grande lavoro Io non le dico una bugia Se le dico che lavoro 12 ore al giorno Ci credo Anche perché voi avete una città nella città Con fin cantieri che mi pare 24 su 24 Sì, è una città molto complessa E su tutti i temi che abbiamo e che abbiamo affrontato Io direi che ne stiamo uscendo vincitori Nel senso che la città è pulita La città oggi non ha abbandoni di immondizia È una città che è fiorita È una città che è riuscita nuovamente Ad avere una spina dorsale È una città nella quale stiamo investendo Perché pensi che sono partita raccontandole Della percentuale di immigrazione residente Che è uno dei problemi più importanti, più gravi Però nel frattempo noi in un anno e mezzo Abbiamo riacquistato, abbiamo interloquito nuovamente Alla pari con il Colosso Fincantieri E i risultati stanno arrivando Nel senso che abbiamo Ci siamo accordati su una serie di cose importanti L'ultima è quella dell'ambulatorio Che è stato aperto all'interno dell'azienda Con fondi che l'azienda contribuisce a mettere Per sgravare il pronto soccorso Abbiamo firmato un accordo Con il quale Fincantieri si è impegnata Per più di un milione e due di euro A ristrutturare una nostra scuola materna Che era diventato un magazzino Quindi una serie di successi importanti E' una serie di successi Ecco, volevo chiederle Adesso ci sarà un riordino un po' Con le riforme di enti locali Della signora Roberti Sarà un po' una riforma Delle ex province Dice Federica Faremo le province speciali Ma quanto a dire alle province speciali Ci sono i contenuti Ecco, Monfalcone in questo contesto Dovrà in qualche modo contare Con Gorizia e Trieste Quindi siete in un triangolo Tre città Molto importanti per la regione Sì, io credo che il Presidente Federica Stia esattamente facendo Quello che ha promesso Ovvero ascolta il territorio Il territorio ha molto da dire E molto diversificato Nelle componenti identitarie Di lingua, di cultura, di tradizione Ma anche di prospettiva E quindi questa capacità Che la regione sta mettendo in campo Anche con l'assessore Roberti Di ascolto Consentirà di ottenere migliori risultati La mia città È una città oggi Che può dire veramente molto Nell'ambito di qualsiasi area vasta Sia inserita Credo che per anni Monfalcone abbia subito Veramente in maniera forse esagerata E oggi ha voglia di essere protagonista Da vari punti di vista Le faccio un piccolo esempio Abbiamo avviato comunque Che con il Sindaco Ziberna E con la Camera di Commercio Della Venezia Giulia Che ha già operato Diciamo una fusione Con Confindustria Stiamo lavorando Proprio perché Noi riteniamo di avere Degli strumenti Per diventare centrali Nell'economia di un territorio Che ha davanti Una prospettiva di sviluppo E del lavoro Che riteniamo importanti E la fusione dei consorzi Ad esempio Sono sicuramente Un punto importantissimo Noi abbiamo il mare Ormai l'autorità di sistema Della portualità È una realtà Ci stiamo lavorando Anche perché Questo diventi Veramente un'opportunità Di sviluppo Per il porto di Monfalcone Che è un porto Di interesse nazionale Con il Presidente Zeno D'Agostino E con il suo segretario Abbiamo avviato Assieme alla Regione Un bel percorso Che noi riteniamo Possa diventare La punta di diamante Dell'economia del mare Perché la navalmeccanica È molto importante E con Fincantieri Abbiamo aperto Assieme all'assessore Rosolene E all'amministratore Delegato Un punto di partenza Affinché Il territorio Del Friuli Venezia Giulia Possa giovarsi Della presenza Di un'azienda Che solo un mese fa Va a 10.000 persone Che lavoravano all'interno E l'ambizione Che abbiamo È quella Di far sì Che torni a lavorare Il territorio Della nostra regione Non soltanto di Monfalcone Perché non basterebbe Viste le commesse Che sono in ordine Fino al 2028 O al 2030 Ecco quindi Lei ha ragione La nostra È una città Che vuole Ritagliarsi Un ruolo fondamentale Nell'economia Della Venezia Giulia E su questo Si sta muovendo Noi riteniamo Che Che l'Isontino Abbia Molta più Voce in capitolo Se è unito Bene Allora Poi c'è anche il caso Burgo Che mi pare Lei lo sta seguendo Sì perché molti Non falconesi Ci lavorano E quindi siamo stati ieri Assieme alla sindaco Pallotta Di Duina Urisina A esprimere La nostra solidarietà Ai lavoratori Noi abbiamo avuto Come sapete Nello scorso anno Il problema Gravissimo Della Eton Che da un giorno Io ritengo Io ritengo sia essenziale E nello stesso modo Però Burgo Ha un compito Importante Perché Per troppi anni Anche adesso Insomma Sta sfuggendo Dalle proprie responsabilità No? Quindi ieri siamo andati a dire Solidarietà Però tutti assieme So che la regione Ci sta lavorando Moltissimo E tutti assieme Affinché la cartiera Abbia ancora E di nuovo Un ruolo importante Perché i lavoratori Non sono tutti i ventenni No? Ecco Le europee Potrebbe essere un nome Molto Molto bello Lei cosa ne pensa Se le chiedessero Di candidarsi? Ma guardi Allora Io Come dico Spessissimo A chi me lo chiede Sono a disposizione Del mio partito E la Lega È un partito Che lavora Per dare delle risposte Quindi io sono certa Che quando Vengono fatti Degli ipotesi di lavoro Sono Proprio per riuscire A dare delle risposte migliori E queste europee Saranno importantissime Perché oggi Noi siamo vittime Di una situazione Intollerabile A livello Di gestione Della cosa pubblica E privata A livello europeo Dopodiché Le dico Io faccio il sindaco Di Monfalcone Sono a disposizione Ma faccio il sindaco Di Monfalcone E credo sia giusto Portare a termine Gli impegni Che si sono presi Bene Allora Augurando buon lavoro Ad Anna Cisin Sindaco di Monfalcone Naturalmente auguro Anche a voi Un buon pranzo Perché certamente Adesso sarete In questo In questo contesto Vi auguro Buona visione Con Telefriuli E ancora tanti auguri Ad Anna Cisin Grazie E buon pranzo E auguri a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti